Ciao a tutti! Oggi vi portiamo a Bari, in via Garuba, dove vi presentiamo un'elegante soluzione abitativa situato in un palazzo signorile. Questo appartamento di tre vani, posizionato al secondo piano di un edificio di sei piani, combina raffinatezza e funzionalità in un contesto prestigioso. Barcando la porta d'ingresso, sarete accolti da un accogliente soggiorno-pranzo, perfetto per momenti di convivialità e relax. Andiacente a questo spazio, troviamo un cucinino ben organizzato, ideale per preparare deliziosi pasti in un ambiente pratico e confortevole. La zona notte comprende due ampie camere da letto e una cameretta, perfetta per ospitare familiari o per essere utilizzata come studio. Il bagno padronale è dotato di finiture moderne e offre tutto il necessario per il massimo comfort. L'appartamento è inoltre dotato di sistema di climatizzazione canalizzata, che garantisce un ambiente sempre piacevole e ben temperato in ogni stagione. Questa soluzione abitativa è ideale per chi cerca un appartamento elegante e ben distribuito in una delle zone più prestigiose di Bari. Per ulteriori informazioni e per prenotare una visita, non esitate a contattarci. Saremo lieti di accompagnarvi alla scoperta di questa splendida opportunità abitativa. Ciao, alla prossima!